Ciao a tutti amici amici di Andrew Channel, benvenuti in questo video in cui vediamo chi ha vinto il giveaway di Imperator Rome Sono praticamente quasi le 16 di lunedì 1 giugno e quindi andiamo a vedere chi tra quelli che hanno messo il like hanno taggato un amico e sono iscritti alla pagina ovviamente di Instagram Chi vincerà questa chiave al gioco? Allora per farlo ho scelto un programma che è il Instagram Random Comment Picker Allora ecco qua, Andrew Channel per favore autorizza il login, va bene Devo andare sul Comment Picker adesso, ok È abbastanza difficile ma adesso ce la facciamo Allora mi dice che minimum amount of mentions deve essere una, deve essere se c'è almeno una mention Ossia dovete avere taggato almeno un amico e i duplicati vengono tolti Adesso scegliamo come video questo, che è quello in cui dicevo il giveaway è aperto fino alle 16 di lunedì 1 giugno E adesso manca proprio un minuto alle 16 quindi io dico di fare start Vediamo un po' che cosa succede Il winner è Giovanni Manai che ha taggato il suo amico Gianluca Poscia Bene Giovanni, adesso io ti scriverò un messaggio e quindi ci metteremo in contatto perché hai vinto una chiave Per tutti gli altri ragazzi iscrivetevi alla pagina Instagram perché ovviamente le chiavi sono tante E questo è soltanto il primo di tanti giveaway Inoltre se non l'avete ancora fatto iscrivetevi anche sulla pagina YouTube Andrew e Channel Grazie per essere stati con me in questo breve video, noi ci vediamo presto Grazie a tutti